Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI cota per incidente avvenuto tra Lavoria e la diramazione di Pisa in direzione Firenze. Ci sono poi rallentamenti per lavori tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno in direzione Livorno. Traffico rallentato anche sulla statale 73 Senese-Aretina per un senso unico alternato causato da lavori tra la colonna del Grillo e Monte San Savino in entrambe le direzioni. In A1 ha segnalato personale su strada a Barberino del Mugello in uscita. Sulla statale Trevis-Tiberina ha chiuso lo svincolo di Canili in entrambe le direzioni in alternativa a utilizzare quello di Bergerito. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!